ma stai zitto ma perché se romana si è andato a vedere una partita di tennis sì sì le posso fare live ma te l'ho detto poi posso giocare si può puoi giocare ok buongiorno puntualissimo teo ah te non sei andato alla scala oggi ah per lo strap non ti sente l'audio di gioco no no te lo sentevi l'audio di gioco prima guardaci sta sentendo qualcosa senta ho piccolato aspetta e neanche reca ma perché lo sapevo che c'era sto bug però vabbè prossima live sistema tutto e neanche reca in chat chissà dove l'ana è roma è andato a vedere una partita di tennis eh la sistemerà adesso non posso io vado alla casa ex distrutta internazionale non me ne frega c'è un'altra parte eh siete sono qui eh io non ho armi per te qua non c'è so oddio lo so oddio oddio muori 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 raga 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 vieni qui vai 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 ci dirò che mira schifoso che ho il punto non c'è il punto non c'è ecco ecco cristina sì sì non so dove 31 eh ho tre colpi vabbè sì c'è torretta tranquillo ci saprete ma tranquillo non c'è no non riesco a peccar what no è va bene sono morto ciao eh tanto ce l'ho tre colpi era impossibile e non non mi non mi andava più giù cioè non andava più giù Sì E' un ciso capo Vai Adesso già pronta Eh, voi non lo so perché No, no, no Eh, se ripresentare lo stesso problema ieri Eh, sì Cosa? A ver, sì, questo non lo sapevi io Andiamo qua Sì No, ci faccio cento Oddio, faccio cento dappertutto Io ho un Barret Che bella la vita Eh? Oddio, c'era qualcuno che mi cecchina Oddio Basta, basta, basta C'ho una roba Messa male, aspetta Io sono camperatissimo Perché non posso fare niente con solo un barret Oddio, ho ucciso uno 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 Sì Vai a cacare 375 in dead Però ho 30 di vita Però ho 30 di vita Che venendo sto venendo Bravo raga Eh, a me mi servono cure Mi servono un cuore Mi serve Oh, credo che c'era uno qua Oddio Ho ucciso il primo qua Che vende? Ah, buono Ok Posto, posto Eh, me ne bastano 2 Massimo 50 di vita Posto Andiamo No Vabbè Oddio Oddio Dietro, dietro L'ho visto È in uno No, è diventato invisibile Oh, Gesù C'è pure un cespuglio No Aspetta, aspetta Oddio Mamma mia Eh, no raga C'è troppa gente Ma che cacchio faccio? Vai tranquillo Guarda che Aspetta, faccio una roba Devo andare a essere Un altro punto No, 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 no No, là c'è gente A mega molsi Qua E tanto lì Potevo fare poche robe C'era troppa gente No No, non caccia veloce Oddio No Amore mio Però devi morire No, dai Stavo per sparare Ma stai zitto Non c'è Sì, sia garina Solo che Ti uccidono subito Bella spider Bene, bene Iscriviti e lasciate like C'era che hai lasciato like Sei un pirla Lascia like 67 Molto bene Aggiorna che ce ne sono 10 Va bene Va bene No, no No, va bene Dai andiamo qua Facciamo una partita Camperata Ciao No, va bene C'è un team Ciao Sono Crididona Posso fare provino Però c'ho le cuffie rotte Iscriviti e lasciate like Fare provino Non c'ero ai sponsor Non c'ho mille iscritti Non c'ho mille iscritti Non posso farlo Bro Quando ti sei iscritto E hai lasciato like Dimmi che ti faccio fare provino Appena finisco questa partita Mandameli di Epic E poi posto Com? No, se passi provino Sì, sì Anche senza provino Te perché te Te sei te Esatto Solo per il nome Già ce l'ho Anche io sarei al posto In teoria Ma vorrei un po' le cure Cioè non c'ho niente Le cure Va bene Uh Buono Il Il Cosa Sì, sì Mi metto a casa C'ho Il Semiautomatico Questo è troppo buono Qua c'è un Silenziato oro Silenziato oro Silenziato oro Io c'ho le Giampine Eh vabbè Anch'io Ah Quelli là Quelli sono forti Non Credo Secondo te cascano I noci di cocco Invece Sì Mi danno Lo shield Lasciami un Antagono Di cocco Che bello Allora Esiste lo shield Se stiamo Da realtà Lasciami questa Grazie Oh ma se fanno Un botto Dei materiali Non so Dove ce ne Così tanti Oddio La safe Io c'ho Un rift Usa Getta Go Go Ma inutile Tanto Perché ci vuoi Andare Bene Ok ho preso Un altro po' Di Jump Aprodiamo In questa Montagnetta Qua Perché Sei così Basso Oh ci sto Cerchierando Con una persona Molto Carina Direi Sai te che Costruisci C'è una persona Sulla montagna Che è cecchino Oh che non Fai da cecchino Perché è la fine Venga 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 Grandissimo E l'altro Adesso Eccolo Eccolo Oh Andiamo Ok Una kill per ora Non fa male nessuno No Non ci credo Per quanto C'è uno Non è vero Non c'è nessuno Vabbè Andiamo in safe Drone Ma io lo chiamo Drone Occhio No Anche io No Oddio No Cosa Dai non ci credo Mi ha ucciso il cespuglio Guarda ci godo Ah no Pensavo Pensavo che l'avevo ucciso te No Pensavo che l'avevo ucciso te 47 47 Ne dici Sono solo un cespuglio Non c'è nessuno No 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 Quello infame Certo che meglio faccio C'è il cespuglio Ma lo faccio sempre quando lo incontro Tu non ti rifai mai il cespuglio? Tu non ti rifai mai il cespuglio? Io sempre Troppo vicino Geroso Basta che trovo un check e un semiautomatico Grazie Grazie C'ho solo un team no? Passa da me No Perché dovrei? Io c'ho due caccia Si Iscriviti e lasciate like Che passo da te Vieni, 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 vieni Oh Cristina Spacca sotto, spacca sotto So qui, so qui, so qui Allora To e to Occhio, occhio Oh Aspetta Vieni Ok, ho ucciso uno E qua l'altro Oddio Oddio Questo mi sa che non ha munizioni Bravissimo C'è pure altra gente C'è pure altra gente Voglio il cecco Haha Oh GG E' un altro caccia blu qua Stai, te lo lascio Io ho 10 band Oddio, sono qua Occhio, ecco Ok, è acceso Io non ho ucciso un altro Quale? Ok Noo, siamo solo Ultimo secondo Dai, non è possibile Non è possibile Bravissimo Sì Adesso un secondo Lutta quello Può essere che C'è qualche munizione Quella Dopo Pochissime Te lo lascio le munizioni Non c'è la munizione Non c'è la munizione Sì, sì Dai, sì Dov'è? Grazie Ce l'hai Io c'ho due rift Comunque Ce l'hai le Colpi adesso? Ok Come? No, vabbè ce l'hai la verde Eh, non se ne può Fa più di uno Ce ne hai tre addosso? Ah, vabbè No, io ce ne avevo già due Le cacce Sì, sì Adesso c'è spuglio Che ce ne avevi tre Non è due Te, due Buono, buono Buono, buono, buono Tanti materiali Non servono Troppissimo Ciao Mico c'è spuglio Io campero Come Dacia spuglio Giusto, giusto No, aspetta Però qua non siamo molto Conoscibili Aspetta, aspetta Aspetta Qua, 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 qua Lì ci sono un po' le cespuglie Aspetta, aspetta Aspetta Mi metto qua Molto bene De Colossal Gianto Sì Puoi fare il provino Devi lasciare like Iscriverti E poi mandarmi Il tuo ID Di Epic Va bene Vai che prima Non ci sono serviti A niente Però Sì bro Però ti sei iscritto Ti sei iscritto A posto Ti mando L'amicizia Sì 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 Io 10 Me ne stanno A casca pochi No ma casca un cavolo Sì mi sono iscritto Hai lasciato like? A posto Ti mando l'amicizia Ti mando l'amicizia Non l'hai già mangiato? Che faccio a pirna? Dopo i giochi? Lasciami Lasciami No Sei un infame Sì Fatto tutto A posto Allora adesso Cocco Tu Fai schifo Ho 10 Di scudo Eh Sì ma stai zitta Un secondo Vado in safe Ti mando l'amicizia Aspetta De Colos De De Colos Ok pronto L'ho mandata Accettamela Metto di qua Aspetta Ok A posto Va bene Aspetta Mi metto un po' Che distante Eh Cosa danno le band Anche io me ne posso fare Non me ne faccio Non me ne faccio Visti 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 No Cioè no Vede un cespuglio Che vola Va bene Va bene Va bene Dai che palle No No Aspetta Davide Palmucci Oh c'è il palmo Davide Palmucci Amico tuo Posso giocare Si puoi giocare Cosa Si Visti Visti Ti spacca il muro Io colpisco Aspetta Non capisco Non capisco Dove Aspetta Ok 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 Ci sto Ci sto Ci sto Per chi Matti Non si sente Non lo so È un bug Che devo risolvere Ok Sei pronto No No Sono sempre lì Sono sempre lì Sono sempre lì Quello è un altro Che si è spostato Allora Eh però Adesso non si può fare più Ci sono Ci sono Ci sono Fidati Bravissimo Ma erano in due Stai zitto Non la buffa Occhio Occhio Ma non lo può restare Impossibile Sei pronto? Anche da là L'altro Non c'è più Non c'è Volevo andare a prendere Loot suo Oddio Va bene Occhio Non cascare Io Cos'è? Aspetta Vai 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 Aspetta Vai Adesso è impossibile Che non ci riesci Oh Sì sì Va tranquillo Non lo so Oh eccoli Eccoli 88 No Io c'ho 87 colpi Oddio È stato Cecchinato Uno è stato Cecchinato Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Non ci so C'è Cecchinato Ma non troppo Oddio Ma non è stato C'è Spugli C'è Spugli Mi ha salvato Davanti a noi 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 Questi Questi Ok 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 Fatto 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 Amoramo 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 Cosa Io Li push Li push Vabbè c'è un high ground No no Adesso Noi siamo in high ground No Ragazzi siamo in high ground Badissimamente high ground Dosa Spacca 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 So lì Allora Sopra ok 3 2 1 Vai No Ti hanno distrutto il cespuglio Raca Ed io ho distrutto la jump Così non scassane Occhio Mi sa che siamo uno contro uno Contro uno Raca raca Non rischiamo Non rischiamo Ok 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 Oddio Allora Dai famocela jump Dov'è? Falla falla Oh gg Oddio Salgo troppo Cosa Oddio It's time To push Bye Let's go Oddio No no Ok Questo è forte Vai vai Lanciamoci 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 Io sto in altissimo Non ci riesco Raca lanciate Lanciamoci Vai 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 Questa è una partita così Non si sente manco di spari Lo so Non si sente l'audio Non so perché Questa è una partita così ormai È andata così Vai Oddio Aspetta 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 Provo a spararle Tipo Ok Ucciso Risparati in alto Risparati in alto Risparati in alto Vai adesso Lui non si può Più spara in alto Ha preso pure Danno dalla safe Ok Si è sparato in alto Ora noi scendiamo E spariamolo Lo dobbiamo prendere in aria Dov'è sto scarso? Quattro Ok Distrutto E andiamo E andiamo E andiamo E andiamo GG RECA GG Andiamo RECA Yes 5 kill Buonissimo GG Allora adesso Cosa Adesso devo fare un provino Quante kill Lui aveva 2 kill Adesso Lo invito Ah bro Devi entrare te Io ti sto invitando Eh Bella Eh io Io non avevo 2 kill Eh Anche No no Facciamo Un'increativa Sì Abbiamo vinto Cosa raga Sto a fare un provino Un secondo Non ho sentito Raga Un secondo Ripeti Ah ok Lo sentimo dopo Ciao Una bellissima vittoria Abbiamo fatto Beh È stata abbastanza Fortuna Adesso un secondo Davide che faccio il provino E poi Giochiamo insieme Eh Sì sì Fight Was Aspetta un secondo Leo ancora te ci sei nei was Aspetta un secondo Leo Ancora te ci sei nei was Allora Allora siamo in 3 E se lui entra Il quarto Allora Sì sì Abbiamo fatto Eh In quale entriamo? Nella tua Nella La mia in casino Vabbè Entriamo nella mia Non importa Sì sì La mia isola Sto ripristinando Ah no Aspetta Un secondo Adesso la ripristino Tanto Si sta ripristinando Allora Armi R Cioè Tut Tutto Tranne lanciarazzi E minigun Favamo così Oddio Ma è una mitraglietta Cos'è? Un fucile assalto? Fammi un attimo provare Sì sì va bene Scar Pompano Ok Dai sì sì Il pompa nuovo lo prendiamo? Il pompa nuovo lo prendiamo Leo Sì 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 un secondo sto imposta tutto si 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 adesso li sto mettendo un attimo ok ho messo tutto adesso scudi completi cento scu e fette siamo in scuola insieme si adesso ok 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 si si ok 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 col primo pronto dai fai da con me veloce due scale e un 2,90 legno 3,2,1 molto bene ho sbagliato eh eh vabbè dopo lo lo metto bene oddio perchè io non l'ho messo sono sì ho sbagliato qui no come è ho sbagliato u qui Nella vita reale? Ciao! Ok, chi sei? Ah! 110 Ah, che sfiga! Aspetta Aspetta Un secondo che metto Che non spavola e... Eh, sì, sì Limite di tempo Nessuno Eh, sì, sì Volo giocatore? No Dimmi quando posso avviare Ok 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 No bene Sì Sì Comunque buildare non sai male Sembra una metraglietta Da quant'è piccola Da quant'è piccola Iscrivetevi al canale di Davide Palmucci Iscrivetevi al canale di Davide Palmucci Se volete Iscrivetevi 8 anni e mezzo Ma no Ma no Sei forte Ma no, sei forte C'era 18 anni e mezzo Comunque Adesso 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 li fai con me Come si chiama il team Secondo Beh Eh, però Per averci 8 anni e mezzo Non è male Vabbè No, no Vabbè Sì, sì, sì No, lo so Però comunque Faccio sempre Sto errore qui Ok, ok No Sì, sto risolando Bye, bye Sì, sì Allora, come zero. oddio non ci credo posso giocare iscriviti al canale lasciate like però iscriviti e lasciate like iscriviti al canale 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 vuoi fare provino o giocare basta con Rado ok con Rado ok 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 un attimo ok 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 1 ok ok 2 te facciamo sapere bella anthony way iscriviti e lascia like 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 chau facciamo squad o creativa non so 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 no dai non ci credo non so non so e e e e e e e e oddio bella mix game meta iscriviti lascia like eh sì adesso non lo so si io adesso no mix adesso no comunque scriviti lascia like no 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 lo so pescato quanto bella la vita oddio 32 calma 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 oh no voglio modifica no niente oh un hit oh che bello no mamma mia quanta smirata oggi è sui cosa ho fatto 56 a qualcuno devo entrare no oh che go no 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 Leggici Ma perché? No Dopo devo spegnere No Ti spara? Quanta vita O domani? No Dopo domani Ti devo uccidere Mamma mia che mira Oh Adesso ho rischiato No What? Serve un 200? Non serve un 200 Parità Fireweather 64,5 Adesso no? Ma Iscriviti così La prossima live te lo faccio fare E adesso 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 non apro Adesso Non Proprio non Ci ho parlato Quindi no Devo spegnere Devo spegnere Devo spegnere Ciao Adesso Grazie.